Lamborghini ha presentato in anteprima europea alla Milano Design Week la Countach LPI 804, 50 anni dopo il lancio della prima Countach. Questa vettura, prodotta in un'edizione limitata di 112 esemplari e un futuristico omaggio a un veicolo che ha ridefinito il look delle supersportive, con stilemi che si ripetono ancora oggi nelle silhouette di ogni Lamborghini. Lo spazio espositivo ha ospitato anche la storica Countach LPI 400.